Perché voi, il pubblico, perché meno del 3% di voi altri legge libri, capito? Perché meno del 15% di voi legge giornali o riviste. Perché l'unica verità che conoscete è quella che ricevete alla TV. Attualmente c'è da noi un'intera generazione che non ha mai saputo niente che non fosse trasmesso alla TV. Voi fate tutto quello che la TV vi dice. Vi vestite come in TV, mangiate come in TV, tirate su bambini come in TV, persino pensate come in TV. Questa è pazia di massa, siete tutti matti. Noi siamo le illusioni. Quindi ascoltatemi. Ascoltatemi. La televisione non è la verità. Quindi se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Sapete, da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo che, vi diremo qualsiasi cazzata, vogliate sentire.